Sto pischiando, dai tempo, oh finalmente eh, dobbiamo ancora aspettare, sono riuscite a sgammare, questo non lo guardo a casa mia, 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 un po', dai insieme, prudente, quello che facciamo oggi? Beh oggi prepareremo il tiramisu, il tiramisu, si, con cosa? E' un po' di salviato, si, con il mascarpone, le uova essenziali, la panna, un po' di zucchero, se non c'è l'unica voce, poi? Il caffè! Ah ok! Iniziamo! Manca il caffè? La voi prendete! Adesso guarda, questo è un po', un tanto inizio, andiamo a questa, andiamo a questa, che dovrebbe prendere questa, allora la presa e non la tolta, funziona! Il caffè non c'è, non c'è, non c'è, beh! Aspetta, non c'è che si fa un dipendente? No! No! No, una volta andiamo a questa già, perché, cioè, è un buon allesterno, non con il caffè, però che, si può fare, diciamo, con le, no, non c'è, boh! Aspetta! Qua, come, che no? Ancora, non c'è, e non c'è, questo, prima le uova, l'artice a vino, l'artice a vino, non abbiamo ancora sulle, ma vuoi del buco? In quantità, in... Quello è la coppia! Allora, gli ingredienti sono, per il tiromisu, essenziale dell'uova, maschi al cuore, cacao, cacao, savo e albi, savo e albi, la panna, la panna, e lo zucchero, e lo zucchero, e il tè, la variante, visto che non c'è il caffè. E quantità? Praticamente, si usano, mezzo chilo di mascarpone, su sei uova, ma visto che oggi, non abbiamo mezzo chilo, ne facciamo duecentocinquanta, con tre uova in quattro. Quindi si può, si può fare diciamo, se non hai tutti gli ingredienti. Vabbè, siamo riusciti a rubare questo, l'altro è troppo grande, un uovo, quante? Tre uova. facciamo quattro? Quattro, volendo. Gli albumi, mettendo gli albumi da una parte, i tuorni dall'altra parte. Guardate che uova, scadono nel, boh. Ah beh, comunque, però andate meglio, anche uova fresca, ci sta aspettando, ci mettiamo un po' per la pinità, e allora, a due, preparo, si è montata la paranda, su, 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 Ho messo quattro uova, quattro uova. Stato, metti due uova. Quattro uova? Quattro uova? Inizio. Fanno più continuare a pesare questo e giusto. Da qui con una mano alla macchinetta, non solo metti questo. Facciamo più male. Inizio. Queda, perché abbiamo bisogno di quello che sono? Lo da? Cutto, ok? Per quanto tempo? Per quanto tempo? Per quanto tempo? Per quanto tempo? E' ma un suo, no? Allora? Per quanto tempo? Molto. Che accattare a casa. Prova? Come è soprattutto una parte del nostro alimento? Non ti vedeva. Che? Non ti vedeva. Non ti vedeva. Beh, sai? Da tempo ti faccio questo lavoro. L'esperienza. Da piccolo mi ricordavo il quadro nel supermercato e mi insegnava a rubare. Ah, ti ricorda? Sì, anche io padre. Siamo una politica. Per me cosa fai? Dici? Mi sto divertendo. Non ti piace. La stendono. Adesso usiamo tutti quei composti. Non aspetterlo. Vabbè. Mettiamo questo. Tutto sporco. No, no, via. Guarda che anche facendo il cuoco rischi, eh? Tieni, facciamo un bel consiglio. No. No, no, via. Guarda che anche facendo il cuoco rischi, eh? Tieni, facciamo un bel consiglio. No, via. Adesso vi metto il composto. Questa è la panna. Ce la siamo limitati. Ce la facciamo? Su. Ma. Qua? Dove? questo lo puoi prendere e mi sporco non farmi delle immagini e questo lo puoi prendere e questo lo puoi prendere e questo lo puoi prendere facciamo un attimo ok 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 bravo non hai fatto un buon pagno perché sono reale ma come ti è venuto in mente è la cosa più facile si, a parte che è semplice è anche tra le cose più buone che poi c'era mia madre mi ha insegnato lei a farlo mi piace tutto il mio posto quindi non hai cucinato bene una ragazza? ti invito a andare? non l'ho ancora fatto ma sono la cosa tirerà? sono le mie intenzioni, le prossime intenzioni sicuramente per conquistare una ragazza una volta l'ho fatta una ragazza poi vennerà a lasciarci non è più tornata passate una settimana all'ospedale non l'ho più vista ah ecco un sogno non c'è mai a capo non c'è mai 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 tutto ciò che vuoi non c'è mai non c'è mai non c'è mai tutto ciò che vuoi non c'è mai non c'è mai Grazie a tutti. Grazie a tutti.